Tra poco, sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Clinica privata a Chiaruccia, martedì il voto in consiglio sul piano regolatore. Il centrodestra voterà no, presentato un esposto alla magistratura. A Pesaro il centrodestra si affida a Nicola Baiocchi, sarà lui lo sfidante di Matteo Riccia le prossime amministrative. Da stanotte torna la neve sulle Marche, martedì scuole chiuse ad Urbino. Rifiuti abbandonati nella zona dell'aeroporto, polizia locale e ispettori ambientali rintracciano l'autore, multa da 500 euro. Dopo il telegiornale, primo cittadino con il sindaco di San Costanzo, Margherita Pedinelli. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri. Benvenuti e benvenuti a tutti, cari telespettatori di Fano TV. Apriamo il telegiornale con la politica, perché martedì in consiglio comunale a Fano si voterà sulla variante al piano regolatore che consentirà, se naturalmente ci sarà il voto favorevole, di costruire in località Chiaruccia la nuova clinica convenzionata privata. Il centrodestra ha già detto che con patto voterà no. La sanità pubblica, ospedale unico provinciale, come e quando, clinica privata a Chiaruccia, Santa Croce depotenziato a favore della clinica, variante sì, variante no, pubblico e privato in contrapposizione. Sarà questo il tormentone politico che ci ritroveremo per le prossime elezioni amministrative. Primo genitura della battaglia, temi e accordi sotto banco, tanta la carne a fuoco su questo tema, rivalse e difese a spadatrata delle scelte, accuse e controsmentite. Assisteremo a tanti di questi balletti, nei quali poi alla fine il cittadino non riuscirà più a distinguere chi come e cosa e quanto è stato fatto e promesso. Domani torna in consiglio comunale per la quarta volta la delibera di variazione di destinazione d'uso dei quattro ettari di terreno a Chiaruccia, sulla quale dovrebbe, il condizionale è d'obbligo, nascere la prima struttura privata convenzionata in provincia. Visto il fuoco amico che ha colpito la maggioranza dopo l'annunciato voto contrario di Severi e Serra, sempre che non ci siano assenze per ragioni sanitarie, il tutto si dovrebbe risolvere sul filo di lana, pallottoliere alla mano, con un solo voto di scarto a favore della delibera. Ma si sa, il proverbio recita, mai di regatto prima di averlo nel sacco. Staremo a vedere. Di certo è che i due tiratori franchi hanno dimostrato che per seri quella della clinica privata ha rischiato di essere un boomerang che gli ritorna in faccia se non lo prendi per il verso giusto. Ma in tutto questo bailame una posizione certa tale e rimane. Quella del centrodestra, che assieme ai 5 Stelle, hanno sempre osteggiato questa scelta e alla soglia del quarto tentativo ribadiscono il concetto di un disegno ben preciso alla base di questo patto d'acciaio seri ceriscioli, ovvero depotenziare l'ortopedia pubblica per favorirne quella privata. Siamo contrari ad una sanità privata che intende sostituirsi alla sanità pubblica. I nostri specialisti sono assolutamente in grado e in gamba e riescono perfettamente a superire a qualunque esigenza. Vanno soltanto messi nelle condizioni di poterlo fare. Ma se fosse necessario aggiungere da parte dell'opposizione un altro elemento per far fare a seri la parte del suddito di ceriscioli ci si mette anche la mancata realizzazione della viabilità alternativa. A partire già dal protocollo d'intesa che rappresenta a tutti gli effetti un atto giuridico importante, quindi un contratto laddove uno dei due contraenti, in questo momento la Regione Marche, viene a mancare, a disattendere uno dei punti che nello specifico caso sono i famosi 20 milioni che dovevano servire a costruire parte della strada verso Muraglia. Ecco, la Regione si permette comunque in ogni caso di poter essere inadempiente su uno di questi punti invece l'altro contraente che siamo noi, che è il Comune di Fano, continua a soddisfare tutti i bisogni famelici della Regione. E sul fronte della sanità oggi è intervenuta anche la nuova lista civica, la sinistra per Fano, che ha annunciato di aver presentato un esposto alla magistratura. Questo esposto che messaggio porta? Cosa vi ha spinto a farlo? Noi abbiamo depositato sabato scorso un esposto alla Procura perché indaghi e verifichi che non ci siano delle rilevanze, diciamo penali, delle mancanze, dei rischi della sicurezza dei cittadini con riferimento al sito di Muraglia che è esondabile, è franoso, è un terreno sabbioso che si può sfaldare. Quindi noi oggi lanciamo un appello forte a tutte le forze politiche e ovviamente alla città, a chi vorrà fare una petizione popolare, insomma a tutta la città, di bloccare questa variante che comunque fa parte di questo progetto che ovviamente noi la condanniamo in toto ma comunque viene vissuta come una contropartita perché appunto l'ospedale verrà costruito forse a Muraglia e io direi che insomma per coerenza, che in questi giorni molti hanno parlato di coerenza, penso che la coerenza vada dimostrata nei fatti. Noi il nostro slogan è la sinistra non si dice ma si fa, abbiamo fatto qualcosa di concreto. E anche a Pesero manovre per le prossime amministrative, sabato è stato presentato l'Antiricci, colui che guiderà la coalizione di centro-destra, si chiama Nicola Baiocchi. Ascolto, condivisione e partecipazione sono le parole chiave di come ci muoveremo in questa campagna elettorale. Così Nicola Baiocchi, 42enne avvocato di professione e candidato sindaco di centro-destra, ha iniziato la sua presentazione dinnanzi a una sala gremita. Basta col PD attaccato, con 70 anni di potere politico che non sa dare più risposta ai cittadini. La società civile ribadisce, può e deve fare politica, va premiata la competenza e non l'appartenenza. Poi, aggiunto, manca un progetto politico lineare. Intanto, il nuovo candidato progetta già le prossime tappe. Le prossime tappe saranno, principalmente inaugureremo la sede del comitato elettorale, a breve, veramente a breve, ve lo comunicheremo, che sarà un posto di ritrovo, un posto di condivisione di interessi, di idee, dove cercare di veicolare le persone, farle venire, ascoltarle ed aiutarle. E poi partiremo con tutto il giro dei quartieri, un'attività finalizzata ad acquisire informazioni, problemi e cercando assolutamente di rispondere alle esigenze delle persone. Perché i programmi lo devono fare, non si fanno nelle stanze dei partiti politici, ma si fanno nella strada, tra la gente, ascoltando le persone. Abbiamo delle idee molto chiare, sia per quello che riguarda la tassazione per il corso delle imprese, sia l'ausilio e le competenze con comune, che può dare all'interno di un'amministrazione per le imprese, per l'aiuto alle imprese. Stesso riguarda per la problematica della sicurezza e delle famiglie. Ma chiaramente il nostro programma è un programma molto più articolato, quelle sono solamente tre tematiche che ho voluto parlarne oggi, ma ci sarà ambiente, ci sarà chiaramente tutto il corso legato al turismo, ai giovani, allo sport, tutte tematiche che affronteremo per i prossimi giorni, per le prossime settimane, quando sarà concluso il programma. Neve in arrivo sulle Marche, ma già da stasera sta nevicando nell'entroterra, in particolare a Camerino, così come nel Maceratese, in particolare, comunque, come dicevamo, nell'entroterra sono previste nevicate diffuse con accumulate moderate a tutte le quote altimetriche e questo secondo quanto indica anche un avviso di condizioni meteavverso della protezione civile delle Marche, valido da stasera fino alla mezzanotte di domani. Nevicherà anche a quote più basse nel Pesarese, dove sono già in azione i mezzi spazzaneve, e anche nell'Anconetano. In previsione delle nevicate abbondanti, il sindaco di Urbino ha disposto per domani, martedì, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale. E per le attività universitarie, invece, ancora non è stato deciso nulla, almeno nel momento in cui stiamo andando in onda, e comunque sarà possibile consultare il sito dell'amministrazione e quindi dell'Ateneo di Urbino, che è deputato a prendere decisioni in merito. Ma per sapere l'evoluzione del tempo, come sempre, abbiamo in collegamento il nostro esperto meteo di geometeo.it, Francesco Cangiotti. Buonasera, Cangiotti. Sì, buonasera. Torna la neve. Sì, torna la neve. Le nevicate sono già in atto, come dicevate poco fa, sui settori collinari e appellinici di gran parte della Regione, ma soprattutto il settore pesarese nord-banconetano nelle prossime ore sarà interessato da precipitazioni nevose che via via si abbasseranno di quota fino a raggiungere praticamente le aree di fondo valle, le aree pianeggianti terne. Anche la costa nella giornata di domani potrebbe vedere dei fiocchi di neve, in particolare proprio i settori compresi Trafano e Riminese avranno delle elevate probabilità di vedere queste nevicate, anche se sui settori costieri gli accumuli saranno molto esigui, se non addirittura senza accumulo. Saranno precipitazioni più che alto coreografiche, però comunque la neve si potrà vedere anche sulla costa. Sulle aree appenniniche invece i fenomeni risulteranno più abbondanti, anche sulle aree oltre i 400-500 metri potremmo avere degli accumuli fin verso i 30-40 centimetri, quindi delle precipitazioni abbastanza consistenti. Per quanto riguarda invece i venti, che cosa ci può dire? Ecco, la ventilazione sarà moderata, ma non avremo venti particolarmente intensi, avremo soprattutto nella giornata di domani correnti da nord-nord-ovest di intensità moderata con mare a tratti mosso. Dal punto di vista meteo l'apice lo raggiungeremo nella giornata di domani, poi nella giornata di mercoledì avremo una temporanea fase di miglioramento con condizioni di variabilità, poi nella giornata di giovedì, quindi tra giovedì e venerdì, ci sarà un nuovo impulso di aria fredda che potrà portare nuove precipitazioni e ancora nuove nevicate fino a quote molto basse. Ecco, poi insomma per il fine settimana credo ci sia una leggera pausa e mi pare che poi si ricominci da capo, ma adesso non vogliamo svelare di più anche perché le carte cambiano in maniera molto repentina e veloce. Comunque ci accontentiamo di sapere che già da domani, insomma da stasera, torna la neve. Grazie Cangiotti per questo aggiornamento. Intanto c'è da dire che al di là dei piani neve, quelli adottati dalle varie province sulla strada, c'è anche il piano neve che prevede tutta una serie di cambi di programma per quanto riguarda la viabilità dei treni. Dunque piani neve e gelo attivati anche nella regione Marche, in Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo e Toscana. L'offerta ferroviaria è confermata in tutte queste regioni ad esclusione della Toscana dove in questa regione a causa delle nevicate più abbondanti martedì sarà garantito il 70% dei treni regionali e quindi ci saranno evidentemente diverse modifiche alla circolazione. E adesso invece cambiamo argomento, parliamo di questo macchinario che serve per pulire l'aria dalle impurità. È un dono, questo macchinario, che l'Associazione Maruzza di Fano ha fatto al reparto di pediatria dell'ospedale cittadino. Chiamarlo purificatore d'aria è alquanto riduttivo vista la tecnologia di derivazione spaziale di cui è composto anche se poi in realtà è quello che fa, ovvero azzerare completamente nell'aria la carica batterica e microbica negli ambienti dove è collocato. È stato donato questa mattina dall'Associazione Maruzza al reparto di pediatria dell'ospedale Santa Croce di Fano un macchinario per rendere sana l'aria in un reparto molto particolare come la pediatria dove la salubrità degli ambienti è molto importante vista la costante commistione di persone adulte che provengono dall'esterno e di piccoli pazienti ricoverati. Nella città dei bambini e delle bambine, un'associazione che opera nel campo delle materie rare proprio con i pazienti più piccoli non poteva che nascere questo frutto. E quindi da questa mattina, consegnato nelle mani della dirigenza del reparto alla presenza dei vertici anche di Marche Nord, questa avanzatissima tecnologia oggi è presente grazie all'associazione nell'ospedale di Fano primo assoluto nella regione Marche a dotarsene. Il regalo di questo beyond che abbiamo fatto è un'ulteriore tutela ed è elevare se possibile l'eccellenza di questo reparto. Fano città dei bambini, io sono felice che parte proprio da Fano questo input a tutti gli ospedali delle Marche ad adottarsi e aiutare i bambini malati perché noi parliamo sempre di città dei bambini, città dei bambini pensiamo ai bambini malati che sono coloro che hanno più bisogno di noi la nostra attenzione è riguata a loro. La tecnologia, dicevamo, di cui si avvale questo presidio è di derivazione aerospaziale infatti è la stessa utilizzata dalla NASA, lente spaziale americano per le stazioni orbitanti e le navicelle tipo shuttle che ospitano gli astronauti per rendere appunto l'aria più sana che respirano e abbattere così la presenza di pericolosi patogeni che possono compromettere le emissioni orbitanti. Questa macchina praticamente nell'arco di un ambiente riesce 24 ore ad abbattere tutti i batteri, i microbi che ci sono e tutti gli organismi monocellulari e quindi non infastidisce assolutamente l'essere umano, i cani, i gatti, gli animali domestici e quindi dà una protezione molto alta per quanto riguarda tutta l'aria che gira per la casa perché viene ossigenata, quindi gira aria ossigenata per ossido di idrogeno. Circa una ventina di sacchi contenenti rifiuti sono stati abbandonati nella zona dell'aeroporto di Fano. La polizia locale e gli ispettori di Aset sono però riusciti a individuare l'autore del gesto incivile infliggendogli una multa di 500 euro. Grazie ad un'attenta ispezione del materiale lasciato all'interno dei sacchi di plastica contenenti filtri usati, lattine d'olio, contenitori di plastica e diverso materiale di autofficina gli agenti hanno individuato il proprietario il quale, ignaro di tutto, aveva affidato lo smaltimento dei rifiuti ad un privato che anziché seguire la procedura e pagare dunque lo smaltimento se ne è sbarazzato illecitamente. Ora dovrà pagare, come dicevamo, la sanzione di 500 euro e rimuovere i sacchi abbandonati. Se non lo farà sarà perseguito penalmente. Proseguono i lavori a Lido di Fano che consentiranno di evitare gli allagamenti nel sottopasso in caso di pioggia abbondante. Presto non più allagamenti, non più sottopasso con auto intrappolate nell'acqua, niente più piscina a cielo aperto in piazzale Amendola dalla prossima stagione turistica. I lavori a Lido di Fano per la cassa di Colmata continuano con la giusta tempistica ed il doppio senso di circolazione su viale Cairoli per consentire la posa dei tubi che consentiranno all'acqua di defluire nel porto canale sta funzionando bene nonostante i piccoli disagi dovuti alla presenza del cantiere che non consente il parcheggio e la sosta dei veicoli. Per ottimizzare però ancora di più i tempi di accorciare la durata della variazione alla circolazione l'impresa appaltatrice ha deciso di avvalersi di una scelta tecnica più complessa ma decisamente più rapida per bypassare il sottopasso con la tubazione ovvero trivellare in orizzontale il tragitto con un'apposita talpa e poi per scivolamento introdurre la condotta nel tunnel. Questa mattina sono iniziati questi lavori in una zona molto suggestiva del porto la zona finale dei vie dello squero. Da qui, da via dello squero, provocando anche qualche disagio per carità un po' di rumore ai residenti ma crediamo che sia per una cosa vantaggiosa la città da qui dovremmo passare sotto il sottopasso di Viale Cairoli, quello pedonale ed arrivare su Via Spuntini con un tubo che appunto sarà con una talpa che andrà a fare lo scavo e a tirare successivamente il tubo per poi far defluire le acque in pressione come avevamo sempre detto. Questo sistema è un sistema abbastanza usato, per tubi così grandi è usato il tubo in HDPE che sarà spinto e ci permette di evitare disagi di qualsiasi tipo alla viabilità. Stiamo andando avanti bene, nel senso che siamo nel cronoprogramma che ci siamo dati le ditte tutte quante stanno performando molto bene questa è sempre per noi una variabile da controllare stanno lavorando molto bene, cercheremo di creare il meno disagio possibili ma cercheremo alla fine di risolvere un problema che ormai da 30 anni, 40 anni affligge il lido di Fano che forse in questa primavera troverà una soluzione. La viabilità a doppio senso di circolazione quanto durerà ancora? Inizialmente avevamo previsto circa un mese, un mese e mezzo di lavoro e quindi abbiamo messo i cartelli fino a marzo Devo dire che sono cautamente ottimista molti dei lavori in strada all'aperto dipendono anche dalle condizioni metoclimatiche e noi ovviamente cercheremo di creare il disagio meno possibile quindi non appena sarà possibile riapriremo via Spontini però sicuramente un po' di giorni ancora ci saranno, almeno due o tre settimane. E oggi il consigliere comunale Mattia De Beneditis della lista Noi Giovani Fano è intervenuto sulla questione dell'ex distributore Agip e del convitto Vittoria Colonna in particolare su cosa farne di queste due aree. La discussione che si è protratta in questi anni su Vittoria Colonna e l'area ex Agip ha messo in evidenza non solo la necessità di riqualificare quelle zone ma ha anche messo in evidenza un'altra cosa ossia il limite che hanno avuto le rappresentanze politiche su quelle aree ossia pensare a quelle aree come spazi isolati uno dall'altro il processo che deve interessare quella zona deve avere una visione di insieme perché bisogna ricreare un dialogo urbano che è la sfida della progettazione urbana dei nostri anni e la progettazione urbana moderna necessita di, in quel caso specifico di vedere il Vittoria Colonna come uno spazio aperto a prescindere da quella che possa essere la destinazione che secondo noi dovrebbe essere quella di un campus universitario di un luogo aperto ai giovani ma deve diventare uno spazio di transito che poi porta all'area ex Agip per poi entrare nel centro storico quindi la necessità dovrebbe essere non solo quella di dire cosa ci facciamo nell'area ex Agip o cosa ci facciamo nel Vittoria Colonna ma fare una riflessione seria su quella che dovrebbe essere la nuova comunicazione tra i quartieri la sfida dovrebbe essere proprio migliorare la comunicazione tra i quartieri e ricreare un dialogo sociale e urbano che possa anche migliorare l'accesso per i cittadini per la mobilità dolce, per le biciclette e quindi anche per i pedoni È stato un anno drammatico per questa regione sconvolgente, non usa mezze parole il procuratore generale delle Marche Sergio Sottani per tracciare un bilancio 2018 pesantissimo sul fronte della cronaca in una regione già pesantemente colpita dal terremoto del 2016 dall'omicidio di Pamela Mastropietro alla folle sparatoria di Traini a Macerata dalla strage in discoteca a Corinaldo all'uccisione di stampo andranghetista a Pesaro di Marcello Bruzzese fratello di un pentito le Marche, dice il procuratore generale sono una regione periferica ma tutt'altro che marginale non soltanto per gli aspetti criminali ma per tanti altri una regione giunge che ha tante potenzialità l'anno scorso sono avvenuti questi episodi drammatici che possono essere motivi di reazione perché non ci si fermi all'inevitabile dolore ma si sappia per farne un tesoro le Marche, osserva, hanno tutti gli strumenti per potersi riprendere ma non bisogna dimenticare che c'è stato anche il terremoto e la ricostruzione tarda a ripartire e adesso, come ogni lunedì diamo uno sguardo allo sport con la redazione sportiva e Matteo Del Vecchio ci sono vittorie e vittorie e quella dell'alma sabato a Terni può tranquillamente essere catalogata tra quelle storiche in 86 anni di sfide con il Rosso Verdi infatti mai il Fano l'ha riuscito a vincere a Liberati ed ecco perché il gol di Ferrante al 47esimo della ripresa assume un sapore particolare che va al di là della classifica una vittoria che porta il Fano dopo 21 giornate momentaneamente fuori dalla zona play-out nel campionato di Lega Pro e può considerarsi uno spartiacque per il proseguo della stagione più Ternana che Alma nei primi 45 minuti di gioco con l'estremo difensore Sar chiamato all'intervento in un paio di occasioni a differenza del suo collega Iannarilli che arriva alla pausa inoperoso lo stesso portiere Granata è chiamato agli straordinari al 14esimo della ripresa su Frediani mentre 10 minuti più tardi sono gli ospiti a mettere paura alla difesa locale con un gran tiro di Ferrante respinto dal numero 1 Ternano l'Alma stringe i denti e nel finale si procura un rigore con il neoacquisto Scardina dagli 11 metri va l'italo-argentino Ferrante che mette dentro la rete che fa salire l'Alma quota 23 in classifica e costa la panchina al tecnico della Ternana De Caneo sollevato dall'incarico nel post-gara Epifani e i suoi ragazzi invece sono già al lavoro perché oggi è già vigilia di campionato domani sera alle 20.30 infatti si gioca Alma Juventus su Tirol altra sfida delicata a cui gli abbonati della tribuna dovranno assistere ancora una volta con impermeabile e ombrello a causa del prolungarsi dei lavori di rifacimento del tetto Passiamo ora al calcio a 5 con la bella affermazione di Etabeta che batte 4-1 il Cusancona nella gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B la squadra di Mariotti dopo lo stop di sette giorni fa a Campobasso rialza subito la testa e grazie ai tre punti conquistati si avvicina sempre più alla zona playoff ai ragazzi di Patron Serafini il merito di aver superato una formazione che non perdeva dal 3 novembre e che era stata capace anche di portarsi in vantaggio al tredicesimo del primo tempo la voglia di vincere dei fanesi e il caloroso pubblico del circolo tennis trave cambiano l'inerzia della gara nella ripresa dove i padroni di casa trovano prima il pareggio con Lorenzete e poi il gol del sorpasso con Bay nel finale con gli ospiti in campo con il portiere di movimento l'etabeta allunga con la rete di Giuliani e l'autogol del brasiliano junior portandosi a quota 19 in classifica a tre lunghezze dai playoff e a più 10 dalla zona retrocessione altra sconfitta invece per il Flaminia nel campionato di serie A femminile le bianco-azzurre cedono in casa per 5-1 al Breganze e nonostante una discreta prestazione restano ancorate all'ultimo posto in classifica con 1-0 nella casella delle partite vinte settimana prossima altra trasferta proibitiva sul campo delle Tarantine dello Statte formazione seconda in classifica e sempre vittoriosa tra le muramiche è ufficialmente campione d'inverno invece la Giban Virtus che chiude il girone d'andata nel campionato di serie B di volley al primo posto e festeggia l'approdo ai quarti di finale di Coppa Italia la formazione di coach Radici già sicura del primato ancora prima di scendere in campo a causa della sconfitta di Pineto ci mette un po' a trovare la quadra e perde il primo set complice anche un integra edotto Foligno arrivata a Fano senza alcun timore reverenziale la sberla nel primo parziale sveglia Salgado e compagni che nei successivi set fanno la voce grossa fino al quarto chiuso con il clamoroso punteggio di 25-9 fin qui meno impegnati come Mandoloni Mazzanti Giorgi Pietropoli e Mancinelli cui spette il compito di mettere dentro il punto decisivo domenica prossima il campionato si ferma per fare spazio proprio alla Coppa Italia e il Palace Allende si prepara ad un altro sold out per la sfida che vedrà opposti i biancorossi all'estetico italiano Sabaudia squadra capolista del Girone F altra importante vittoria la terza consecutiva anche per la serie C femminile dell'Apav Calcinelli Lucrezia che questa volta supera la capolista Megabox Montecchio sempre al tie-break nonostante ancora l'ultimo posto nel Girone il filotto di successi ha permesso alla formazione del tecnico Giuseppe Davide Galli di muovere la propria classifica e conquistare punti importanti in previsione della seconda fase Dallo sport giocato passiamo ad una premiazione nello specifico quella che si è svolta sabato scorso verso la sala conferenza del CONI dove si è tenuta la festa del ciclismo giovanile marchigiano tra le società premiate dal tecnico della nazionale Davide Cassani c'era anche l'Alma Juventus Fano che anche quest'anno si è distinta in particolar modo nella categoria giovanissimi premiati anche due atleti fanesi Elia Tesei e Jonathan Guarabardi campioni regionali rispettivamente nelle categorie esordienti primo anno e secondo anno chiudiamo con i successi targati Fano e Lucrezia che arrivano da Morrovalle dove ieri erano in programma una gara femminile e una giovanile di bocce nella gara individuale femminile ha vinto la campionessa europea Under 23 Flavia Morelli tesserata con la bocciofila Lucrezia così come Orietta Savelli terza classificata nell'Under 18 invece ennesima affermazione del top player Marco Principe della combattente che ha superato in finale Lorenzo Lucarelli altro atleta della bocciofila Lucrezia grazie a Matteo Del Vecchio per questa pagina sportiva adesso vi facciamo vedere invece un video che ci ha inviato poco fa qualche minuto fa un nostro reporter di strada che si trova a Cagli questa è la situazione in questo momento quindi come vedete sta nevicando le strade sono già interessate da alcuni centimetri di neve tra l'altro c'è un aggiornamento perché a Cagli il sindaco ha deciso per la giornata di domani di chiudere tutte le scuole presenti nel territorio comunale così come ha deciso il sindaco di Urbino seguiremo naturalmente l'evoluzione del maltempo della neve nel corso della serata anche attraverso i social network il nostro sito internet occhianotizia.it la redazione continuerà ad aggiornarlo anche tutta la serata e se necessario anche la notte domani mattina presto vi ricordo che c'è la nostra pagina il nostro gruppo reporter di strada se non siete ancora iscritti fatelo cercatelo su facebook come vedete alle mie spalle però c'è il cartello che anticipa la puntata di questa sera di primo cittadino con l'ospite Pedinelli il sindaco di San Costanzo e allora Margherita Pedinelli tra poco sarà qui negli studi di Fano TV in diretta per rispondere alle vostre domande se volete intervenire in diretta il numero è 072-186-1433 oppure potete inviarci un sms o whatsapp al 338-4968-250 tra poco le previsioni del tempo con i comici del San Costanzo Show poi primo cittadino l'edizione di mezzasera del telegiornale a seguire la serie A di pallavolo con la Golden Plast Potenza Picena che ha sfidato e vinto contro la Conad Reggio Emilia io mi fermo qui ci vediamo domani mattina alle 7.30 con Occhio ai giornali e la Rassegna Stampa arrivederci a presto